Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Paolo, quali sono i diritti e i doveri dello scrittore? Non esiste da nessuna parte una lista di diritti e di doveri degli scrittori. Diciamo che ogni scrittore deve in qualche modo crearsi da solo i propri diritti e i propri doveri. Secondo me, a quel che vedo io leggendo, guardandomi intorno e conoscendo gli scrittori, credo che il diritto fondamentale di un autore sia quello di esprimersi nel modo che ritiene più congeniale, e cioè nel non doversi piegare a quelle che sono le mode oppure alle indicazioni date da un'autorevolezza più alta, che non c'è poi, perché anche l'editore dovrebbe decidere di pubblicare un testo se gli piace, senza chiedere chissà quali grandi cambiamenti, se il testo perlomeno è scritto bene, voglio dire, se non ha dei grandi limiti di tipo culturale o che so. E quindi questo secondo me è il primo diritto. Il primo dovere invece di uno scrittore somiglia a questo, e cioè di non tradire se stesso, di non turlupinare il proprio talento, cercando di fare qualcosa che non gli somiglia per ottenere un successo che magari poi non verrà. Credo che il primo dovere di uno scrittore, da cui poi ne discenderanno tantissimi altri, sia proprio quello di impegnarsi al massimo per far diventare il più possibile potente, efficace, energico il testo su cui sta lavorando, senza farlo diventare troppo lontano da se stesso. Cioè deve essere vero, sincero e potente. Questo è il suo dovere. Se non ci riesce, è meglio che smetta, che passi a un altro testo o si dia a un altro tipo di arte. Alice, gli scrittori devono sempre essere impegnati dalla parte giusta. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. E le responsabilità degli autori, secondo me, sono l'impegno a farsi delle domande oneste prima di iniziare a scrivere. Più che avere delle risposte in tasca, perché quello poi lo lasciamo a chi utilizza la scrittura per convincere i consumatori a comprare uno shampoo, oppure gli elettori a votare un partito rispetto a un altro. Quindi l'autore di narrativa deve essere animato dalla stessa etica di uno scienziato che inizia un esperimento, facendosi una domanda sul mondo. Ovviamente la domanda risponde al proprio senso di giustizia, alla propria cultura, ai propri valori, alla propria visione del mondo. Però gli scenari che apre quella domanda devono essere di scoperta continua, sia per l'autore che per il lettore. Vi faccio due esempi su temi caldi, come l'ambiente e la questione femminista. Un saggio, come quello di Bill Gates sul clima, parte da un'idea che è quella che bisogna ridurre le missioni e poi adduce fatti, deduzioni logiche, per sostenere quella tesi. Invece un romanzo deve partire da una buona domanda, come fa Franzen, che si interroga sulla propria coscienza ambientale, magari quanto sono disposto a sacrificarmi per l'ambiente, mettendo di fronte il personaggio a delle scelte difficili. Non lo so, vendo questa terra a un'industria del carbone oppure non mando mio figlio all'università. La stessa cosa sul femminismo. C'è il saggio di Michela Murgia, Stai zitta, che parte dall'idea che la nostra lingua sia intrisa di sessismo. Mentre autrici di narrativa che iniziano a scrivere una storia interrogandosi sull'identità di genere, devono partire da altre domande. Per esempio, la Atwood nel racconto dell'Ancella parte da una domanda quanto più attuale. Cioè, la donna si realizza soltanto come fattrice in una società, facendo solo da madre. Questo è il racconto dell'Ancella. Oppure, ragazze elettriche dell'Alderman, se la donna avesse la stessa forza fisica di un uomo, come sarebbe la società? E poi lo mette in scena. Quindi l'impegno degli autori è quello di partire da una domanda giusta e provare a dire almeno una cosa vera. Paolo, smetteremo mai di raccontare storie? L'essere umano ha sempre raccontato storie e quindi io non credo che smetteremo mai di raccontarle. Fin dall'inizio, la nostra vita sulla Terra, appena probabilmente abbiamo cominciato a parlare, ci siamo scambiati dei racconti e questi racconti sono diventati i miti di molte popolazioni. In effetti ci sono miti all'inizio di qualunque popolo. Noi moderni occidentali ce li siamo quasi dimenticati, però anche per esempio la Bibbia, che potremmo definire il libro dei nostri miti d'origine, è piena di grandissime storie, di straordinari racconti, di avventure. Certo, anche tutto il resto, le lunghissime sfilze di nomi, delle genealogie, oppure le proibizioni, insomma, però insieme a tutto questo ci sono anche le storie. Del resto, ancora oggi, pure se il romanzo e il racconto qualche volta rinunciano a raccontare una storia, però le storie sono dappertutto. Naturalmente sono nel cinema, sono nei videogiochi, sono... In qualunque nostra visione dell'umanità credo che ci sia sempre una storia che la racconta. E poi devo dire, ma perché dovremmo smettere di raccontare storie? A questo proposito, anche se non faccio mai citazioni poetiche, voglio dire il finale di una poesia del poeta Robert Frost, che finisce così. Qualcosa non va, Qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta. Ecco, l'essere umano, quando canta, racconta storie e lasciatelo cantare. Farmacia letteraria, un podcast della Scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.